e anche uno sviluppo a livello proprio visivo che poi era l'unione tra i gruppi. Grazie a tutti. Ciao, mi chiamo Walter e ho fatto lo scambio con gli spagnoli a piedi, anche un po' sportivo, dove praticamente è durato una decina di giorni, dove abbiamo incontrato i ragazzi spagnoli dove abbiamo potuto confrontarci a livello artistico musicale con questi ragazzi. Dove abbiamo conosciuto più o meno, tra virgolette, la cultura spagnola, la musica e l'arte. Niente, praticamente, in questi giorni facevamo delle attività, i lavoratori, c'erano dei lavoratori che erano dividi, lici, suono, video, fotografie e fotografie. Io ho partecipato alle luci, dove praticamente insieme a ragazzi spagnoli ci avevo insegnato a utilizzare le luci durante i concerti. Mi abbiamo aiutati a fare un morales, a palestra di Piero Gote. Parlando con uno di questi ragazzi, ho capito che loro in Spagna praticamente vengono pagati, possono fare i murales sulle pareti dei nozzi magari, vengono pagati i negozianti a fare questi murales, quindi da quanto ho capito c'è più libertà artistica ed è quello che mi è piaciuto di più, mentre qua. Mi chiamo Luca Lardone, abito a Pievevergonte e anch'io ho partecipato allo scambio culturale ed ero nel settore video, nel laboratorio, abbiamo utilizzato un programma che mi sembra che si chiama Surfer e abbiamo eseguito dei video in 3D per montarli insieme alla musica fornita dal nostro DJ. E anche a me mi è piaciuto molto questa libertà culturale spagnola che c'è in Spagna, perché qui la cultura è molto più ristretta, cioè non è che viene, anzi è quasi un crimine che è libero, è libero, è proprio cultura e proprio viene artistica. Comunque siamo riusciti ad organizzare con questi Spagnoli, loro organizzarono gli Spagnoli un concerto, loro suonavano e noi abbiamo montato le luci, abbiamo montato dei video che abbiamo proiettato dietro agli artisti che suonavano e lì al campo sportivo di Fevercote e mi è piaciuto molto il progetto perché non ho mai visto un progetto così fatto qua in Paldossola e mi piacerebbe proseguire con altri progetti, partecipare ad altri progetti culturali Abbiamo fatto visitare questi ragazzi di Spagnoli, la Villa d'Ossola e abbiamo fatto provare gli aperitivi e le specialità culinarie della valle e mi sembrava molto soddisfatti e mi piaceva come si organizzavano le cene e gli aperitivi e mi piacevano molto anche le montagne che ci sono qua, i paesaggi facevano molte foto su quelle montagne e diciamo che lì in montagne così via non le avevamo mai viste quindi le abbiamo portati anche alla Gorantrona a visitare che hanno fatto il bagno anche, che pioveva ma fa niente, avevano fatto lo stesso e mi sembra che questo progetto sia stato molto bello, cioè piaciuto grazie